Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Se mi vedete un pochino così in avanti a sedere, perché qui accanto ho la gattina, Morgana, che non ne ha voluto sapere assolutamente di spostarsi, se sentite un po' di rumoraccio è il ventilatore che ragazzi è qui, cioè qui accanto alla ripresa, perché c'è un caldo micidiale e come avete visto abbiamo cambiato anche la location per fare i video, perché ragazzi veramente nel soppalco non ci si sta, quindi più o meno fino, io spero, primi di settembre, non credo, quindi verso sicuramente i primi d'ottobre ci sarà un po' più di freschetto, e ora che la gatta scende la faccio uscire e riusciremo a rifare i video sul nezioppalco. Ah, mi sono spostato perché la gattina è andata via. Comunque vi torno a parlare ancora una volta della nuova edizione di Warhammer 40.000 e questa volta dando un'occhiata al contenuto della, più che altro un'anteprima, della scatola Indomitus, il primo set della nuova ambientazione e regole di Warhammer 40.000 che vedono da una parte gli Ultramarine fronteggiare i Necron. Una scatola completa, piena zeppa di roba, cose bellissime, miniature d'altissima qualità, ma ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Ragazzi, premetto subito che nel corso del video vi farò vedere un po' di video montati, perché Corrado, il proprietario della gioco libreria Semola, che ricordo essere il nostro negozio sponsor, ha fatto un veloce video di unboxing, perché gli è arrivata la prima confezione del negozio e praticamente ha fatto vedere un po' cosa c'è all'interno. Ma questo video non è un video unboxing, il video unboxing ve lo faccio io a parte, tanto mi ha mandato una scatola che tra l'altro ringrazio per farci appunto l'unboxing e tutto quanto, per farvi vedere le regole e quant'altro. Quello che vedete ora è soltanto una piccola anteprima fatta dal proprietario, da Corrado, della gioco libreria Semola, che ci fa vedere cosa c'è all'interno. E ragazzi, ci sono delle cose disumane, perché vi dico soltanto che sono due eserciti completi, non saranno da mille e milla punti, ma per iniziare ce ne avete per mesi e mesi e mesi, e c'è un esercito completo degli Ultramarine, che sono i nuovi primaris, con l'armatura Mach 10, e poi ci sono i nuovi Necron, che i Necron avevano bisogno, un po' come l'adeptas Ororitas, le sorelle guerriere, di un revamp, di un restyle grafico. Infatti queste nuove miniature, ragazzi, c'è da sentirsi male. Più ci sono dentro due manuali, uno con le regole e uno di 300 e passa pagine, dove ragazzi ci sono soltanto 170 pagine di ambientazione e background, 170 pagine di lore e di storia, e io vi giuro, comprerei il gioco anche solo per avere quello. Perché l'ambientazione di Warhammer 40.000 sta cambiando in meglio, ma sta cambiando, quindi c'è anche un po' da aggiornarsi sulla lore per vedere appunto che strada la GV ha deciso di far prendere al suo gioco di punta. Partono, ora voi state vedendo questo video, fra un'ora, da quando lo state vedendo, ed esattamente all'11 di sabato mattina, partiranno i pre-order, perché il gioco lui non ce l'ha ancora in negozio, gli è arrivato un paio di copie fisiche in negozio perché appunto per mostrarle, per farcelo unboxing e tutto quanto. Però partono direttamente i pre-order, a breve, quindi andate direttamente nel primo link che trovate in descrizione e in sovraimpressione, andate sul sito della Gioco Libreria Semola, perché stanno partendo i pre-order. Le spedizioni partiranno dal lunedì 24 luglio, perché il gioco, ricordo ancora una volta, è un pre-order. L'edizione in italiano è strafinita, proprio sul sito della GV è andata a Ruba, ma la Gioco Libreria Semola ne ha ordinate molte copie, quindi ce n'è ancora molte. Io ho visto negozi che hanno ordinato 20-30 copie, di cui 5-6 in italiano e tutto il resto in inglese. Ragazzi, da Gioco Libreria Semola lo trovate direttamente in italiano, perché è ordinata una bella scorta. Il gioco costa, c'è la scatola base di Indomitus, 155 euro, spedizioni gratuite, Semola non le fai mai pagare in tutto il mondo, e i primi che ordineranno avranno dei gadget gratuiti, che sono braccialetti, spille e carte. Quindi ci avete tutta della roba ufficiale, ovviamente messa ad omaggio dentro il pacco. E ricordo, ragazzi, quando andate a fare l'ordine di Indomitus del pre-order, andate a mettere nel codice discount, al momento dell'acquisto, Coridan 7, tutto maiuscolo, Coridan e 7 il numero, tutto attaccato in maiuscolo, per avere subito uno sconto del 7%. Non vi fa pagare le spese postali e vi dà anche un bello sconto del 7%. Quindi usate sempre il codice sconto Coridan 7 e affrettatevi, perché la Gioco Libreria Semola ha una bella scorta di copie in pre-order in italiano. Quindi andate direttamente a comprarlo, perché sennò poi rischiate, tra molti virgoletti, perché c'è chi non ha problemi, di giocarlo se non in inglese. Io ancora una volta ringrazio la Gioco Libreria Semola, grazie Corrado, di avermi mandato tutti questi video, e a breve mi arriverà la scatola a casa di Indomitus, fornita dal nostro negozio sponsor, che vi ringrazio da morire, e di cui vi farò personalmente un unboxing, solo un unboxing, e successivamente vi faremo vedere anche un po' un gameplay o comunque tutte quante le regole. Io ringrazio ancora una volta la Gioco Libreria Semola, trovate il primo link in descrizione, link in sull'impressione, e usate sempre il codice discount. Ragazzi, è uno spettacolo disumano, non vedo l'ora veramente che mi arrivi e di farvi l'unboxing. Ciao ragazzi, alla prossima!